Ehi, v'aspetto lunedì sera su Rai 1 dopo il film, al mio spettacolo Mille Una Star. Mille Una Star può rendere la vita più saporita. Per partecipare al grande concorso Mille Una Star basta comprare il Brodo Star, compilare e spedire la cartolina. Ogni lunedì sera si può diventare milionari col grande concorso Mille Una Star. Tutto il sapore di casa mia. Grazie a tutti.